Sì, signor! Sì, signor! Eh, voglio dire... È un canestro! Hai visto il totem? Oddio, che succede? Ma come fare a prendere la palla? Un F! Ah, un F... Oh, tu! Ma perché con la R si salta sto gioco? Io non capisco Vieni con lo spazio! Eh, ma io voglio ricaricare l'arma! Non puoi ricaricare l'arma! Dai, hai ragione! In serio se vuoi ricaricare l'arma? Eh, vuoi si può! Mori prima! Dino to try faster? C'è un Dino qua? C'è un Dino qua? C'è un Dino qua? Eh, devi mettere la casa sopra! Eh, c'è... Obscure che sta provando a bloccare la piattaforma con dei mattoni piccolissimi! No, no! Perché? Sono uscito e gli ho sparato sul mattone e lui ha studiato a prendere! Che bastardo! Lo sei! Obscure! Ce l'ha fatta! No, ce l'ha fatta! Sono bei momenti! C'ho il capo da calcio con le gandine, ragazzi! Che fico! Ha fatto... È un pollo! È un pollo! È un pollo! Andiamo, ragazzi! Questo è il Dino Sauri! No, penso di averlo fatto fuori! No, ma dai! Mi ha sparato! Ma se spari dalle casse trovi delle sorprese dentro, eh! Io non so l'impressione, ma mi sembra più figo questo dell'altro di campagna! Ragazzi ci sono i cattivoni qua! Questo diciamo che era già... Questo praticamente è il terzo capitolo della serie, eh! Quarto! No, se... Ah, sì, sì, scusami! Sì, sì, è vero! Sì, sì, è vero! Sì, è vero! Sì, è vero! Sì, è vero! È bello! Mi piace! Più tranquilla! Sì, ragionante! Aspetta a dirlo! Beh, la grafica è chiaramente un po' migliore! Però da qui a dire che è meglio ancora presto! Vediamo! Gioco la storia dei mattoni! Dobbiamo saltare nella bocca della scimmia! Salta, Forest! Salta! L'elicottero arriva! Spara, 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 spara! Oh, torno! Ne scendono dei nemici! Chi l'avrebbe mai detto? Tra l'altro il Master Chief! Le difficoltà hai messo, va! Hard! Hard? Ma se vanno giù come le mosche! Meglio, meglio! È ancora presto per dire che è troppo facile, dai! Cioè, questa ci dice che siamo meglio! Che cazzo pretendi? Eh, cos'è sto coso? Oh! Che brutto! Madonna! Ci tira e lascia! Rilasciate! Ma c'è morto! Ma scusa, ma che... Che difficoltà hai messo? Bambino delle elementari! Dai, siamo pur sempre in tre! O non gli bibliotecari si chiede! Difficoltà bibliotecario! Ah, questi prima devi spararli per tirare giù lo scudo! Devi spararli? Sì! Le munizioni si! No! Il mare, la spiaggia cosa c'è? Il bagnasciuga! No, la TNT! TNT! Ehm... E adesso? Adesso la tiro e appena arrivano i cattivi! Non si può fare esplodere sta cosa! Sì, però... Un passimonia! Perché non esplode? Un passimonia! Un passimonia! Ok, c'è il don... Oh, non gli bibliotecari! Ahia! Ecco! Esplosa! Ahia! Esplosa! Insieme a me! Ci sono due... Gli uomini... Che asciata! Ma che sono veloci eh! Ti ammazzano stai qua! Ma dove? Quando lascia... Non fanno neanche tempo a roteare lascia! Quando lascia non lascia! Quando lascia non lascia! Cos'è che arriva adesso? Ehm... Leonardo da Vinci! Ah, non dobbiamo sparargli! Io gli sparerei! Io gli sparerei! Io gli sparo! Che so sti cosi qua! Gli rani di prima! Gli rani di prima che sono cresciute sono i parenti! Incazzati! Ma OBSCUR sei bruttissimo! Che bestia sei! Un elfo suppongo! Quattro di tarughe! Per difendere la terra! Viva i ninja! Ninja! Ma vabbè! Un po' da fastidio che non posso uccidere queste farine azzurre! Guarda! Mi sta terribilmente sul cazzo! Tagliagli per piacere le gambe a sto coso qua! A sta struttura così cadono e si fanno male! Oh! Double shotgun! Cos'è che arriva? Ci bombarda! Ci stanno sbombardazzando! Sbombarda! Sbombarda! Ho stato un segreto ragazzi! Oh che bocca! Guardate qua! Cos'è che c'è qua ragazzi? Cos'è che c'è sta roba? Ma dove? Qui! C'è una piattaforma con una bomba gigante! Ma dove? E' sull'isolato centrale! Non lo vedo! Ah qualcosa lì! Tuffati no? Tanto è morbido! Non si può entrare in acqua! Ah l'ho presa io! Chi ce l'ho? Ah ti rischi è vero! Cos'è che è? Eh! E adesso cosa succederà mai? Ma qua c'è anche una trama che si infittisce! Sempre più fitta! Ma la bomba cosa farà? Vieni vieni vieni! Vieni ragazzi! Venite! Ma dove sei? Ah qua c'è un... Ah questo l'ho visto! Guardate un po'! C'è da prendere la banana! Fate un po' questa banana! Non è che per caso... Avete appuntamenti aggiuntivi! Prendila tu la banana! Non è obscuro! Guarda qua! Guarda qua! Aspetta! Fantastico! Aia! Ma hai avuto fuori un mostro! Si! E' più bello questo ed altro la campagna ragazzi! Si è più... Noi dovremmo salvare questo villaggio quindi! Ma che fumero! Ma che bello il fumo! Ma che vedi? Allora lì! Bello! Quattro tartarughe per difendere la terra! Viva e ninja! Viva e ninja! Viva e ninja! Quindi? Let's kick smash! Andiamo a tirare qualche calcio o qualche culo dai! Eccoli lì! Ma scuola dobbiamo difendere queste cose qua! Ma io li ammazzerei volentieri invece! Mangerei zuppa blu questa sera io! Viva e ninja! Minchia vuole i papagalli con la bomba! Bastardi! Bastardi! Che ce li ha? Perché li hai presi? Papagalli! 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 No! Non sono nostri! Bastardi! Abbattano tutto! Devo demolire il villaggio! Bastardi! Pennuti fottuti! Hello! Hello! Quindi? Dov'è che sono? Dov'è che sono le porte del villaggio? Non lo so! Ma sono lì! Dovemo uscire? Ah! Eh lo lo sciamo! Mi sa che entrano d'oro eh! Mi sa che entrano d'oro! Mi sa che entrano d'oro! Dici? Ah sì! Guarda lì là! Aia! Ma che c... Sì! 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 Stanno entrando ancora ragazzi! Sono... Sono qua che entrano di nuovo! Gli sono fortissimi si pappagalli! Sì! Sì! Sono difficili da prendere! Ma sti cazzo di omini blu di merda non potrebbero alzare il culo e aiutarci a difendere il loro villaggio! No! Guardali! Appunto! Guardali! Gli alieni... Gli alieni... Gli alieni ci stanno invadendo! Però non faccio... Mannaggia! Finita! Abbiamo vinto! Sì! Sono ancora questi qua che sono qui fuori! Quindi testa di sciamano che facciamo? Arrivano! Mi sa! O come questi... Ah no! Arrivano lo prossimo! Arriva il fratello maggiore! Ma che cosa? E' tutto questo? Che dentatura! Sta per fare qualcosa di cattivo mi credo! Una scorreggia fotonica! Che cazzo? Cosa è successo? Ho fatto la bomba potente! Hai fatto la super bomba? Sì! Ce l'avevi ancora? Esatto! Era la bomba seria! Si chiamava così! Ok! Non possiamo uscire! Praticamente ammazza tutti i cattivi! In vista! Oh no! Il papagallo! Ho scoperto! L'ho colpito! No! 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 Quindi abbiamo vinto! Penso! È finita! Abbiamo vinto! Albino! 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 È un albi piccolino! Sam! Dobbiamo prendere controllo di quella cattiva! I simboli sono produttivi e funzionisti! No! Guarda che... Che location prestigiosa! È la guerra dei mondi! Sembra Halo! Sembra Halo! Veramente! Sono le torrette adesso! Sembra Halo però divertente! Posso usare veramente le torrette! F***ata! Io sto a prendere che... Ho preso un pappagallo con la bomba! Ok adesso! Di tu di te! Di tu di te ce ne sono un sacco! Bravi! Come si chiama i pappagalli? E adesso gli lancio i pappagalli! E' bellissimo! È bellissimo il pappagallo! E' bellissimo il pappagallo! Cosa fa un pappagallo? Io lo lancio e lo rinsegue! Io mi sorprei di fare la campagna seriamente di questo qua! È veramente carino! Guarda come esplodono male! Perché ora noi stiamo scherzando? Ti sembra che noi stiamo qua a scherzare? Non scherziamo un membro Non scherziamo un cazzo acido Aia Arrivando la foresta, arriva Tanti, tra l'altro Ma il Puglius che non sei al comando di una torretta? Cosa stai facendo? Cos'è quel coso lì? Un pappagallo No, ma c'era un coso sui cingolati Ah, il toro mi canta Guarda come muoiono No, no, era tipo un barbaro su cingolato però Cosa stai dicendo? Ti giuro, guardalo, guardalo lì a destra Ecco davvero Grande Valpurgius che va Da solo A combattere corpo a corpo con i nemici Come si faceva una volta, come si faceva un nemico O meglio, quei pochi che io e Obscure facciamo arrivare fino lì Io vi li preparo, voi li seccate, va bene? Guarda che puoi distruggere anche gli alberi Ho notato, è quello che sto facendo Ahia Ahia, intermedio No, no, qua è dei nostri Questo è dei nostri L'ho ammazza Non muore? Non muore, no Che effetti sonori prestigiosi Ma veramente? Pianta, è dei nostri Il rocket launcher, dov'è? Mio Yeah Qui dobbiamo proseguire adesso, vuol dire Non possiamo più andare di torretta Allora, aspetta Allora, allora Qua dov'è che si chiama, il pappagallo Allora, allora 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 Che carino Che carino Allora Allora Questa è molto originale, devo dire Con il pappagallo è figo, sì E quindi? Da che parte? Ah, dobbiamo andare su di là Oh, caldo, dove arrivano quelli da? Si, torna il giocattolo Vai, tutta Allora Qua ci sono cattivi Non mi sembra Ma anche brutti Sono anche brutti da vedere Un pappagallo da lanciare è stupendo Un zaino, un zaino Dov'è? Qua Almeno, io lo vedevo prima qua C'è, c'è Ho preso ammo pack Andiamo a salvare gli uomini blu Ma guarda cosa, che carino il pappagallino Il pappagallo è stupendo, non è bello, è stupendo Next on life, ho undici vite Anch'io Anch'io Siamo stati proprio bravi Siamo mai morti, è vero? No, io sono appena morto invece No, veramente una volta siamo morti quando io per errore ho fatto deflagrare la TNT Facendo cosa scusa? Deflagrare la dinamite Nooo, si entra nella palla Cosa che hai preso? E io perchè non... Anch'io voglio la palla, scusa Allora, avete fatto i mitragliatori fino a un attimo fa Basta Perché esplodono tutti quando passi tre? Scocchioni Sì Sì Perché dove passo io non cresce più l'ebba Ah, ma chi sei? Malpursus B come Neleno U come Uruguay Uruguay L come Lago di Sangue P come Porca Puttana U come Uruguay Sì Alguardo Un'altra volta R come Non è che mi permette di aiutare gentilmente? Ti rigolo la macchina Gentilmente? G come... E ora sono gazzi tuoi Gentilmente? I come Ira di Dio U come Uruguay Ancora S come ti spezzo di due Aiuto! Aiaiaia che volo Questi sono quelli che penso io Sì, proprio loro Che brutti Che escono dal muro tra l'altro Arrivano anche da dietro Arrivano anche da dietro Arrivano anche da dietro No, ci ne hanno un paio che vanno da dietro Che interessa che c'è qua Che carnaio Carnificina Carnagliosa E' pieno di stessi Quanto è facile questa difficoltà dopo? Guarda Un turista secondo me Sì, anche secondo me Non è possibile che noi si sia improvvisamente Diventati così Così bravi Cos'è qualcosa lì? Spara, spara No, è uno dei nostri Stop out E' mio Bastardo No C'è un'altra, c'è un'altra ragazzi C'è un'altra No, voglio usare il papagallo E io? Capito Sono caputato Siete due merde Tutte e due Vedi? Tu e sto la palla Prima cosa vuoi? Siete due cacchie Adesso vi lancio il papagallo E vi esplodete perché ve l'ho meritato Extra life E' più facile Ma quanto sangue Quanta inutile violenza Quanto gloro Quanti morti Tra questi poveri alieni Non gli abbiamo detto no Di fare gli alieni Ma che cazzo fai? Mi sei impato Mi fai tamponi Io sono sicurato Attenzione che questi qua Quando muoiono Lasciano fuori un bucchio di sangue C'è anche l'elicottero Attenzione Ah ma io sono questo qua Sono così brutto Bellissimo il papagallo Ma dove va il purgius? Sono qua Spacco puli Camice No anche i tori Meccanici tra l'altro Si Ma carica Quasi spiace farli fuori Tanto carini I tori a manovella Che sicoso La teppa Si è morta Scusa questa non può essere Difficoltà hard Torno a ripetere Anch'io Ce n'erano altri tre Morti tutti No ce ne sono altri due C'è l'invasione degli ultraragni Un altro Sarà ma a me Stanno seccando Stanno un po' uccidendo Stanno uccidendo? Mi hanno ucciso Ma va E sarà perché sei a piedi Povero Ipi Lo zombie Stockbroker Stockbroker Un F Prendi un pallone da basket E giochi No Un attimo Mi sono dal macellaio Natti Ma cosa fai? Ma dai Ma figuerino E che fai sta lì Grazie Non si muove Va bene Possiamo andare avanti? No Bi Grazie.